Benvenuti a questa edizione LIS del telegiornale. Nelle prossime ore si registreranno disagi per l'interruzione del servizio di raccolta della spazzatura. Lo sciopero durerà un giorno. I dipendenti di Messina Ambiente hanno interrotto l'attività per un giorno perché non hanno ancora percepito lo stipendio di agosto. Anche in provincia problemi analoghi hanno originato lo sciopero di un giorno. A Messina utenti del servizio di trasporto pubblico a piedi. Gli autobus sono guasti e fermi in deposito. L'azienda di trasporto non ha i soldi per le riparazioni. Questa mattina disagi al Capolinea Cavallotti dove i passeggeri hanno atteso per ore l'arrivo dei pochi autobus in circolazione. I carabinieri hanno arrestato il 26enne messinese Giuseppe Mondo, addetto alle vendite in un supermercato della zona sud della città. Tra il febbraio del 2011 e l'aprile 2012 aveva sottratto quasi 40.000 euro al titolare di una impresa di naso che gestiva vari punti vendita in provincia. La provincia regionale di Messina mette in vendita l'ex hotel Riviera per 15 milioni di euro perché il palazzo è ormai abbandonato da anni. L'ex hotel è però da ristrutturare. Anche per questo appare difficile trovare un acquirente. L'assessore Bruno Cilento sta curando l'operazione per la dismissione dell'immobile. È tutto per questa edizione del telegiornale LIS di 3 Media. Grazie per averci seguito. Arrivederci.